Amici ma soprattutto nemici bianconeri buongiorno ragazzi buongiorno 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 soprattutto a Tiago Motta nuovo allenatore ufficiale della Juventus complimenti complimenti a Tiago Motta benvenuto tutta la mia stima tutta la mia simpatia tutto il mio appoggio tutta la mia passione è rivolta nei suoi confronti sarà per quanto mi riguarda diciamo considerato in tutto e in tutti i suoi aspetti sarà appoggiato sarà criticato se ci sarà bisogno di essere criticato e sarà applaudito se ci sarà bisogno di essere applaudito ma una cosa è sicura e questo lo possiamo già certificare oggi lo possiamo certificare già subito nell'immediato si è finita la pacchia per i giocatori della Juventus si è finita la pacchia adesso si torna a lavorare adesso non ci sono più quegli allenamenti blandi quelle quegli allenamenti dove veramente un novantenne sembrava sembrava a suo agio si sono finiti quegli sketch vi ricordate no non ci riprendere che ci arrestano no qua la tiri a giro bastite di basket qua cazzate tiri dal caccio d'angolo tiri di qua tiri di là si queste pagliacciate sono finite adesso il sudore dalla fronte deve sgorgare a ettoletri le magliette quando vanno adesso poi in chiusura allenamento devono essere insuppate di sudore ma talmente tanto che il peso del giocatore deve essere di fighili in più la lingua deve arrivare di fuori stile conte perché mi hanno raccontato che gli allenamenti sono durissimi quelle di conti di moto mi hanno raccontato a porte chiusi non ci sono questi separietti per le per questi show non ci saranno più questi show demenziale per il pubblico non ci saranno più allenamenti chiusi allenamenti a porte serrate allenamenti dove nessuno saprà e cosa ha in mente per la partita che verrà a seguire finalmente si torna veramente al lavoro il culto del lavoro finalmente ritorna alla alla continuazione finalmente ritorna nei campi di vino e non ci sarà più veramente quella quello proprio quello proprio che si è visto per tre anni ma ci sono le vittorie vittorio cancellano tutto ma la questi tre anni veramente che ci hanno distrutto psicologicamente fisicamente mentalmente è tutto adesso si ritorna a lavorare adesso il pallone inizia a girare e girare sempre più veloci i passaggi devono essere più veloci i concetti di calcio devono essere espressi in maniera intellettuale un nuovo modo un modo operandi adesso si parla di calcio nelle conferenze stampa adesso si ragiona come si può dire da davvero football davvero football non ci sono più cose futili così inutili stupidaggini di cortomuso stupidaggini nelle conferenze stampa pseudo barzellette tutti ne niente di qua tutti ne niente di là niente niente adesso c'è sudore impegno abnegazione e non c'è nessuno titolare attenzione con motta non c'è nessuno titolare non ci sono gerarchie non c'è nulla chi è più in forma gioca durante questi allenamenti non ci sono gerarchie oggi tu sei titolare domani se il tuo compagno di reparto il tuo compagno di ruolo si allena meglio e lo vede più in forma tu passi in secondo piano finalmente è arrivata la meritocrazia quelle cose qua astute ribadisco ci vorrà un po di tempo per noi sarà come su sol dire scoprire la luna perché sono anni 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 che noi non non vediamo certi tipi di atteggiamento certi tipi di situazione certi tipi veramente di di operare come si nelle grandi società voi mi dite ma tu sei sicuro che tutto ciò accada accadrà 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 tranquillamente perché il bologna non si porta in champions league così come se fosse il spirito santo come se fosse una grazie di dio si ci porta traverso il lavoro perché bologna non era costruito per andare in centro il bologna era costruito per fare una buonissima un buonissimo campionato la rosa che aveva ma per portarle in cimbi di che ci vogliono tutto quello che io vi ho elencato in questo video adesso con la proporzione giusta naturalmente gli obiettivi saranno diversi e ripetendo gli obiettivi saranno diversi anche in vista di questa mini o quasi rivoluzione che sta effettuando aggiuntoli al centrocampo con questo daclas luiz ci sarà forse un altro un altro innesto ci si potrebbe essere tu ram ci potrebbe essere e come mai potrebbe essere sala smaccio ci potrebbe essere chiunque ma ci sarà comunque qualcun altro hanno deciso di rivoluzionare e più si rivoluziona più aumentano gli gli obblighi nel vincere e questo è pacifico perché noi siamo gioventus e dobbiamo fondare alla vittoria poi si vince non si vince questo ve lo sapete nel calcio non c'è niente di sicuro ma la sicurezza deve essere la competitività il ritornare a essere competitivi e ritornare a far tremare l'avversario che affronterà la juventus si può perdere anche l'attenzione ragazzi si può anche perdere con l'udinese però l'udinese deve essere sommersa da tiri l'udinese deve essere sommersa nel gioco poi cavalli si può stare che il portiere avversario faccia dei miracoli i pali traverse e poi loro con una con un'azione di contropiede possono anche vincere questo non mi questo non mi preoccupa a me a me questo non mi preoccupa perché so che quando ci sono queste cose può capitare una volta massimo due volte ma poi alla fine vince sempre chi ha il il comando del gioco questo è pacifico noi come abbiamo fatto fino ad ora dominati da tutti da tutti e da tutto in tutti gli aspetti fisici fisico tattico mentale addirittura eravamo noi quelle che si scrivevamo paura quando entravano in campo quindi adesso ribadisco tutto è cambiato adesso c'è il culto del lavoro e quando c'è il culto del lavoro quando c'è la benedizione tutto e poi c'è la società che fa da collante a questo a questo nuovo progetto io sono sereno giunti lo sto vedendo tranquillo sta facendo dei delle degli incastri molto molto intelligenti e molto molto buoni quindi totale fiducia a questo a questo dirigente ma è giusto che sia così perché si è una nuova era ma siamo in una nuova era quindi benvenuto notta a te l'onore e l'onore di riportare la juventus ai grandi vertici un abbraccio e ma se ci passate come sempre fino alla fine forse